Se c'è chi come l'Avellino ha già deciso a chi affidare il progetto tecnico, in Serie C c'è ancora chi sfoglia la margherita per evitare errori già in partenza. Dopo gli investimenti degli ultimi anni ed il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Catanzaro ha deciso di cambiare rutta. I calabresi hanno interrotto il rapporto con il direttore sportivo Pasquale Logiudice. Il presidente Noto è a lavoro in queste ore per avviare un nuovo progetto tecnico. In discrezione i rumors portano a Raffaele Rubino, accostato anche ad Avellino e Monopoli nelle scorse settimane, sul quale però c'è anche il Perugia. Se dovesse essere l'ex attaccante e il direttore sportivo, in panchina ci sarebbero ottime chance per Giuseppe Raffaele, reduce da due ottimi campionati alla guida del Potenza. La Paganese, dopo l'ottima annata appena conclusa, ha deciso di puntare su un prolungamento del progetto tecnico. Dopo aver rinnovato il contratto al tecnico Alessandro Erra, sta stringendo per prolungare i contratti anche allo zoccolo duro della squadra. Nei giorni scorsi è stato il turno di Fabrizio Bramati, che in Serie C aveva un discreto mercato. Anche la Turris, dopo che la Grana Stadio è in via di definizione, dopo aver rinnovato alcuni contratti, ha cominciato a sondare il terreno per i nuovi acquisti. Un profilo attenzionato dai dirigenti di Torre del Greco è quello dell'esperto difensore Mariano Stendardo, l'anno scorso in forza alla Paganese. Infine, quello che si era annunciato come un vero e proprio supermarket, ovvero il Catania, che nei giorni scorsi è stato vicino al fallimento, ha scongiurato questa ipotesi. Entro oggi alle 12 andavano presentate le offerte di acquisto presso il Tribunale della città etnea. Domani mattina, a partire dalle 10, verranno aperte le buste che definiranno il nuovo proprietario del club rosso-azzurro.